Buongiorno a tutti, sono Grazia Marchesillo, psicologa e psicoterapeuta, didatto ordinario della Società Italiana di Psicoterapia Integrata. Sono anche responsabile del centro di urno Agora, un centro semi-residenziale psichiatrico. Il 28 ottobre vorrei invitare tutti a partecipare al seminario che riguarderà i disturbi del comportamento alimentare. Perché venire? Qual è la differenza in questo momento con gli altri orientamenti e con gli altri trattamenti rispetto a questi disturbi? La maggior parte degli orientamenti si preoccupano di eliminare o ridurre il sintomo. Per noi il sintomo non è il problema. Chi verrà al seminario comincerà a condividere con noi dei concetti che sono stranieri, sono sconosciuti e credo che invece siano estremamente all'avanguardia. I nostri studenti nella scuola di specializzazione hanno l'opportunità di approfondirli, mentre per chi verrà il 28 di cominciare a essere stimolati nella riflessione su queste nuove teorie che funzionano e questo noi lo verifichiamo tutti i giorni nella nostra pratica clinica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.